Resettare e ripartire è il modo migliore per smaltire la coccente delusione playoff, dunque subito al lavoro per riprogrammare la prossima stagione. Si ripartirà da Zderek Zeman, ieri pomeriggio infatti vertice con Sebastiani e Delicarri, col Boemo c'è già l'accordo per il rinnovo. L'annuncio probabilmente a metà della prossima settimana, la Rosa sarà ulteriormente ringiovanita. Dei prestiti potrebbe restare solo Davide Merola che il club intende riscattare dall'Empoli. Il classe 2000 andrà in scadenza 30 giugno 2024, sarà naturalmente determinante la volontà del 23enne calciatore campano. 8 gol da gennaio-giugno, 7 in campionato, 1 nei playoff in casa con Lentella. I calciatori sotto contratto sono 20, compresi i giovani che rientreranno alla base. Stiamo parlando di Belloni dalla Latina, Bocic dal Frosinone, Lombardi dall'Alessandria e di Chiarella dal Catania. In ritiro saranno aggregati i giovani della primavera Staver, Dagasso, Scipioni e il 2006 Casciano. Tra gli over resterà Capitan Brosco, saluteranno invece Crescenzi, Cancellotti, Mora e Ingrosso.